Si parla di natura, si parla anche di acqua. Io incontro all'interno di questa bellissima esposizione fieristica dedicata ai fiori e alla natura un'azienda che è Soluzione Acqua con il suo titolare che è il signor Alberto Mongeau. Soluzione Acqua come nasce e soprattutto come ricava la sua fetta di mercato? Da quale esperienza? Ha nascito da un'esperienza fatta sottoscritto di una multinazionale per lunghi anni creando questa piccola realtà locale, una realtà molto piccola dove abbiamo messo al primo posto il cliente. Siamo una piccola squadra che appunto tende ad affrontare i problemi del cliente e a risolverli, da qui anche il nome Soluzione Acqua e pertanto nell'ambito piscina come lei giustamente introducevano in questo contesto di design, di paesaggismo, la piscina è qualcosa che si integra molto bene, è una piccola oasi naturale e è a disposizione di qualunque cliente e spesso il cliente ne ha paura, pensa che costi molto. La piscina può costare anche come una panda, quindi si può partire da prezzi molto accettabili, molto bassi. Ragonandola con l'automobile la piscina può costare dalla panda alla Ferrari, sceglierà lei quello che desidera alla fin dei conti. Quindi noi possiamo realizzarle la piscina nuova, possiamo aggiustare la piscina vecchia, possiamo modificare la sua vecchia piscina, prenderla in assistenza programmata, curare l'apertura stagionale e la chiusura stagionale della piscina e tutto quello che le serve, la vendita di prodotti di consumo e quant'altro. Oggi può realizzare la piscina chiunque, basta avere lo spazio, basta avere lo spazio e ovviamente quella piccola disponibilità economica, come diciamo prima, sufficiente a cambiare l'automobile. Noi siamo convenzionati anche con una primaria società di finanziamenti. Trent'anni fa farti una piscina era da ricchi, oggi alla portata di quasi tutti, non dico tutti ma di quasi tutti. Siamo un riferimento web? Sì www.soluzioneacqua.it